Bella ragazzi, siamo qua allo stadio olimpico di Torino, stiamo cercando qualche fanciulla per chi devo fare degli scherzi. Oggi c'è la partita del Toro, guardate lì lo stadio bello, ci sono le bancarelle, scusate, siamo rubati un secondo, pronostico di stasera, non vedo niente, no no è Torino-Lazio, pronostico chi vince, ah te vuoi sapere, sì sì voglio facciamo un video per vedere cosa ne pensa la gente, ma quanti, 1 a 1, tanti gol? 1 a 1, ok grazie, scusa, sono rubato un secondo, stasera, pronostico, stiamo facendo un video vlog, pronostico, 2 a 1, 2 a 1, vince, sei del Torino, no, non ti fa nessuno, ah va, grazie, un secondo, un secondo, pronostico di stasera, stiamo facendo un... ah io non sono proprio esperto, un risultato, a caso, niente, grazie, salve, salve, pronostico di stasera, pronostico di stasera, stiamo facendo un video, chi vince stasera? no, 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 no e però non so pronostico non abbiamo dato allora, secondo me 0-0 perché fanno schifo tutti e due 2-2, sono tante squadre cioè segnano tanto però fanno schifo in difesa 2-2, dai e quelli prendono la roba del Toro e fanno Juventus e non sono neanche che gioca il Toro oh, questi qua scusate, un minuto possiamo rubarvelo pronostico di stasera, stiamo facendo un video secondo me 3-1 Lazio secondo me siete nel 2-1 no, no, Juventus anche io, quindi non lo so io direi X sì, anche io ho detto 0-0 1-1, sì, pareggiano tutti pareggiano io vado per il 3-1 grazie scusate, un minuto un minuto pronostico di stasera pari in Lazio e ho visto che andava veloce in Vincenna mi fermo, domanda di Stasera del Toro o lei? ah, eh eh, nel pronostico non sono così, sono di parte vabbè, però anch'io su Juventino pari io ho detto 0-0 alla fine un pareggio un 1-1 oh, me lo gioco stasera me lo gioco, giocatevi il pareggio pareggio 0-0 1-1 o X 1-1 1-1, grazie 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 ci sono bastardi ci sono bastardi e correva veloce in Vincenna, ho dovuto fermare guarda che qua il Stadio Olimpico stasera giocheranno qui guarda chi la biglietteria noi anche saremo a casa io saremo a casa a guardare il telegiornale vediamo cosa succede stai facendo un merda alla fine si, infatti per fare una domanda una domanda? pronostico di stasera però mentre fai le flessioni ti prego dai, mentre fai le flessioni guarda tu per il calcio si, si per il calcio per il calcio vabbè, ma a calcio però mentre fai le flessioni dai, un attimo per uno spot per uno spot che stiamo facendo siamo un canale di Youtube ah, ok per le flessioni tu dici Torino pareggia 1-1 va bene io sto qui così anche il fatto Torino entra 1-0 1-0 ha detto aspetta 1-0 1-0 grazie grazie ciao scusa 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 dimmi mentre corriamo vieni qua dimmi pronostico di stasera non so neanche tu è Torino-Lazio torino torino quanto no sta al bordo lì la telecamera 2-0 2-0 ok grazie non so fari niente grazie se questo video vi è piaciuto mettete like commento condividete si vede scuro allora mettete like tanti il suo canale nella descrizione like guarda qua sul mio pollice qua sotto mettete like iscrivetevi sul pollice da qualche parte ora vediamo se riusciamo a trovare qualcuno le montiamo ma per questo viene tutta bella ciao